Far parlare tra loro i funzionari del Comune, avanzare suggerimenti e condividere progetti per garantire condizioni di benessere per tutti i cittadini. Questo è l'obiettivo degli Stati Generali di Fano per lo sviluppo economico e sociale della città, convocati per il prossimo 29 giugno alle 16.30 nella Sala San Michele. Tavoli diversi per 75-76 soggetti hanno favorito una progettazione che verrà nella giornata degli Stati Generali riportata alla cittadinanza, alla Giunta, a tutti coloro che in qualche modo vogliono entrare anche nel merito di questo processo di coprogettazione e di condivisione, per cui noi avremo modo attraverso delle slide, attraverso i report che verranno fatti sia dai coordinatori ma anche dai soggetti che hanno partecipato relativamente a quella che possono essere delle nuove modalità di progettare, di abbattere delle criticità, di ridurre anche delle cattive prassi e di mettere in campo a breve, medio e lungo termine un'idea della città che appartenga a tutti. Nei tavoli tematici che da gennaio ad aprile si sono tenuti per ben 27 volte sono state affrontate le problematiche relative a tutti i settori della pubblica amministrazione, quindi per prima cosa è stato necessario abbattere il muro esistente tra i vari uffici all'interno del comune stesso. Abbiamo potuto conoscerci tra colleghi, che è veramente strano ma è una novità, in questo caso ci siamo relazionati in modo trasparente, aperto, attivo, abbiamo riflettuto su quelle che sono le criticità, le risorse del territorio e disegnato alcune proposte progettuali concrete. Ci auguriamo che col convegno del 29 possano molte più persone, molte più associazioni, molte più cittadini chiedere di esserci per pensare insieme una visione di città nuova che nasca dalla collaborazione aperta sia tra gli uffici sia con la cittadinanza attiva.